La foto più originale della tua storia d'amore ti fa volare in Thailandia, è infatti un viaggio nel sud-est asiatico il premio del contest fotografico rivolto alle coppie che l'ente nazionale del turismo tailandese in collaborazione con Thai Airways ha lanciato su Facebook. C'è tempo fino al 7 febbraio per dare sfogo alle proprie capacità creative e pubblicare le fotografie sulle pagine degli enti promotori. La coppia vincitrice sarà premiata il 15 febbraio nel corso della prossima pizza di Milano. Grazie a tutti.